E' il campione, lo sfidante e via! Scattano velocissimi, il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata, è alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino, non ha neanche la tessera in mano, è una resa annunciata la sua! Ma se avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione, grazie allo smartphone preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza!